Il Ministro ha chiesto dichiarimenti a ADP, perché la documentazione è completa, ora si vuole far ricadere tutta la colpa sul Ministro Torinetti, dopo che dal 2011 ci aspettavano un momento della pista. Per me è una sciocchezza quello che si sta dicendo, è un mio parere perché dal 2011 si sta spessando un momento della pista, ora si è trovata la soluzione del SIEC facendo riferimento alla protezione civile, ora il Ministro ha chiesto un chiarimento, si esprimerà, l'avete prodotto e il Ministro si esprimerà. Quindi non è che ha detto no, ma ha chiesto un chiarimento sull'incartamento uguale al prodotto che non era...